Salve a tutti ragazzi Ho portato un po' avanti La nostra Come si chiama Lo smistamento chest Qui ho fatto dei cambiamenti Ho questa cosa gialla Che da un po' fastidio Per aver messo un po' dei tubi Un po' casaccio è uscita questa cosa Non so più come si toglie Penso rimarrà sempre Come vedete qui ho messo Un tubo Un logistic request Così posso richiamare tutte le cose che voglio Già ho lavorato un po' Però mi sono accorto che Fraps non stava registrando Adesso mi sono accorto Comunque sto avendo un po' di problemi Perché qui Non so il perché ma i tubi Non mi funzionano Stavo facendo Varie prove Eritando anche di perdere i tubi Qui per fortuna sta funzionando tutto Ok cominciamo a prendere La nostra legna Come vedete Stavo cercando Ho cominciato l'automatic crafting Non so se tutti la conoscete Comunque ho portato dei tubi O spostati Quindi ho fatto anche questo piccolo tracciato Da qui Cioè qua è quella che vanno sopra Qua è dove vanno per la le La cesta Il cesta principale scusate Adesso stavo cercando Di fare una cosa Ma cosa togliamo questo Mettiamo questo invece Puoi mettere questo E questo E mi da questo Problema Non so il perché Forse perché Facciamo così invece Ecco Neanche adesso Non riesco a farlo funzionare Radiamente Facciamo invece con questo metodo Mettiamo una crafting E qui uno Della logistica E mi da sempre Questo qui Rosso Questo è il mio problema Attuale Intanto qua Chiudiamo Mettiamo invece Uno normale Di cobblestone E neanche Cioè qui Non ne vuole sapere Proprio Non so se non è diventivo così Non è che lì mi funziona Tipo se ho io A tre qua Cioè dovrebbe darmi verde Invece mi da rosso Eppure questi sono Quella della crafting Cioè Della tossa Cioè qui funziona Qui Fai un po' E Non ne vuole sapere Cioè si mette rosso E non funziona Qui funzionano Per fortuna Anche questo Infatti Facciamo così Richiesta Vabbè queste sono Le cose che teniamo Ah no Crafting No adesso ce lo do Zitti zitti Che ce lo do Ah ok Sembra essere risolto Il problema Proviamo Proviamo Ehm Questo Adesso funziona Ok Proviamo a vedere se effettivamente funziona Facciamo così Mettiamo che due di questi Fanno questo Questi li buttiamo E buttiamo Il cavolo Facciamo così Facciamo Import Vediamo Vediamo Adesso Craft Ah perfetto Adesso Funziona Mi scuso Principalmente Per Che Non avete Ben visto Nulla di ciò Che ho fatto Ma non me ne sono Proprio accorto Che non stava Registrando Fraps Intanto Qui che non ci sono Più problemi Avevo dei panel Eccoli qui E io Rigiuderei Il tutto Che neanche questo Vi ho fatto vedere Purtroppo Mettiamo Il panel Qua Perfetto Abbiamo chiuso Così Qui non voglio Chiudere Magari Così No vabbè Secondo il mio parere Abbiamo chiuso Già abbastanza Magari Uno così Qui Perfetto E non ce ne parla più Vediamo Io abbiamo noto Qualche altra parte No Solo Però Un pizzico Di bellezza Perfetto Io Continuerei Questa Autocrafting Partendo In questo metodo Facciamo Qui invece Facciamo Facciamo Le rotelle Facciamo Crafting E Una cosa Nuovissima Facciamo In questo Metodo Poi Io Lì Invece Farei In questo Metodo Farei Che Quattro Di Legni Ci danno Una Crafting Facciamo In questo Metodo E Tatatam Facciamo Import Ok Perfetto Facciamo Già Un'altra Che ci siamo Qui Mettiamo Che Una Ok Dobbiamo Un attimo Facciamo Quattro Di queste Facciamo Abbiamo Abbiamo Torto Un'altra Cosa Qui Invece Metterei Che Facciamo Sotto Un altro Questo Legno Qui Facciamo Che Una Una Rotella Più Quattro Cobblestone Diventa Di Pietra Perfetto Importiamo Anche Questo E Diciamo Che Abbiamo Cominciato Abbastanza Bene Andiamo a controllare Se il tutto Funziona Qui Non so Come si toglie Penso Mi pare Rimangono Per sempre Vediamo Qui Nel Request Items Ci Possiamo Richiedere Tutto ciò Che abbiamo Nelle nostre Ceste Qui Possiamo Abbiamo 13 Una Fiamma Mi ricordo Abbiamo 2000 Pietra Vabbè Tutto Quello Che Vedete Qua Si Cambia Il numero Che Vogliamo Poi Qui Su Craft E Il fatto Dell'automatic Crafting Che Vi Ho Fatto Vaffanculo Ciccione Di Merda Che È Tutti Sti Dobby No Io Me L'avevo Fatto Cazzo C'è Io Mezz'ora A Perdere Tempo Per Come Fare E Qui Mi Abbattono Casa Ma Siamo Su Scherzi A Parte Cazzo E Ma Devo Rifare Tutto Mamma Mia C'è Questi Ciccioni Devo Disattivare C'è Non posso Stare Un attimo Di pace Un attimo Un solo Istante Che Questi Mi Abbattono Casa C'è Uno dice Che Deve Disattivare Venamente Ti Facciamo Casa Sto pure Morendo Chi Emo Questa Già La Seconda Volta Che Mi Distruggono Casa Alla Terza No Ok Lo Ho Pesso Più Diciamo Perfetto Vabbè Comunque Vi ho Fatto Vedere Come Funziona Adesso Dovrò Ricraftarlo Purtroppo E E Mi Mi Ci Vorrò Un bel Po Di Marce Però Dai Facciamo Lo stesso Adesso Qui Dovrò No 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 Non Hanno 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 Fatto Altri Danni asso. Oh perfetto. Ok mi serve la logistic, perfetto. Andiamo qui. Mi ha fatto un bel po' di energia per fortuna. Logistic fa i normali tango. Ok. Vediamo se riesco a prendere due rotelle che le ho fatte imparare. Una sola? Quanto vale? Cacchio 9000. Ok penso di doverla craftare purtroppo. Ah. Quattro. 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 Perfetto. Stiamo calmi non ci arrabbiamo. Mammissimi. Ferro. Mettiamo l'oro. Logistic. Perfetto abbiamo fatto un request. Abbiamo fatto anche la crafting nel frattempo. E vediamo se è un logistic normale lì dietro. Perfetto. Vediamo il funzionamento. Ok funziona. Qui fa vedere tutto ciò che possiamo craftare. fare imparare anche stesso da qui si possono craftare le cose. Scusate sempre la tosse. Eh sì. Però qua li divide. Perfetto. Vi ho fatto idea anche come si richiamano gli oggetti. come si richiamano. E anche come si fa l'automatic crafting. Questo è solo l'inizio. Adesso ne ho fatte solo sei. Considerate che possiamo farlo su tutto. Volevo farvi vedere anche un'ultima prova. di... Perfetto della crafting. Vedere se funziona effettivamente. Tipo richiediamo... 5 automatic crafting. Richiesta accettata. Successful. Intanto facciamo usare un po' questo. Io vi szyi dubbio io li porto a frasso. Posso posa posa. fate anche questo, 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 questo e questo qui cosa succede? forse è qua, questo qua dovrei toglierlo mettiamoci quella di stone perfetto e le gatti? ne sono 4 ma non 5 eeeh cominciamo mamma mia, ogni 5 secondi un po' di pace mai facciamo un'altra prova tipo qualcosa che non teniamo no, le squadre teniamo le squadre teniamo voglio una di questa ad esempio proviamo sto ancora sperimentando considerate queste sono la prima volta che faccio una cosa del genere non l'ho mai fatta ah ma la roba c'è non si crafta, vieni direttamente qua cioè o fa un giro da strapazzo vediamo se arriva non lo so è un po' pazza sta crafting cioè tutto ciò che ho fatto no devo fare così effettivamente ma questi non sanno ma questi non sanno dove devono andare questi qua neanche e tengono ragione di che stavamo parlando di che stavamo parlando della Glosson Dust ah intanto si ci mette un po' di tempo però alla fine fa il suo lavoro il mio lavoro fa solo sui giri un po' la strapazzo però alla fine fa tutto io direi qua chi ce l'ha messa sta roba un po' tu 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 ok io comincerei a posare un po' di roba ragazzi vi ho fatto vedere che anche funziona la crafting mi fa un po' di giri strani in certe volte però ho sempre comunque effettivamente funziona si deve devo prendere un po' di energia dopo vabbè cominciamo a spedire via queste cose anche questo vai via questo è quello non so dove metterle io le metterei qui così questo possiamo andare la via qui mettiamo questo ah caccia le teniamo pure le gold gear le ho craftate comunque beh diciamo che per questa parte può andare tutto vi ho fatto vedere l'automatic crafting intanto possiamo i nostri bei cosi qui questa è la roba che mi è rimasta finito praticamente tutti i book chef prendiamo questo in un po' di energia e diciamo che da questa parte con l'automatic crafting è tutto ci vediamo alla prossima parte arrivederci qui 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 Grazie a tutti.